Arriva la macchina trasparente messa a punto da un team di ricercatori giapponesi della Keio University che sfruttando un sistema di realtà aumentata riesce a restituire l'effetto di una scocca trasparente, cioè permette a chi si trova all'interno dell'abitacolo di guardare ciò che succede all'esterno attraverso la carena. A rendere possibile l'effetto sono degli obiettivi che riprendono e trasferiscono in tempo reale ad un elaboratore le immagini esterne che a loro volta saranno proiettate su un particolare tipo di schermo. Questo permette di generare una sorta di 3D stereoscopico che illude l'occhio dandogli la sensazione della trasparenza.